Sta facendo molto discutere la notizia dello sblocco dei concorsi previsto dal decreto legge approvato nella serata del 31 marzo dal Consiglio dei Ministri, ma anticipata già nella mattinata dal Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta. Nella giornata di mercoledì notizie più o meno certe, anticipazioni e ipotesi si sono susseguite in continuazione. C'è persino chi ha parlato di una operazione che potrebbe servire ad aprire in modo regolare il nuovo anno scolastico. Ma per evitare di creare illusioni o di alimentare preoccupazioni è bene stare ai fatti. Il primo è questo. Ammesso, ed è ancora tutto da dimostrare, che i concorsi della scuola partano o ripartano prima dell'estate, è evidente che non ci saranno risultati concreti per settembre. L'unico concorso che potrebbe avere qualche effetto è lo straordinario per 32.000 posti nella scuola secondaria, arrivato ormai alle sue battute conclusive e di cui si attende la pubblicazione delle graduatorie di merito. Tutti gli altri concorsi potranno servire per coprire cattedre, ma solo a partire dal 2022-23, nella migliore delle ipotesi. Quindi lo sblocco dei concorsi non ha nulla a che vedere con il regolare avvio del prossimo anno scolastico. Si sta parlando poi di nuove regole per lo svolgimento delle prove, ma anche in questo caso è bene essere cauti. Le notizie diffuse nelle ultime ore parlano della necessità che i candidati dimostrino l'esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima della prova e che indossino mascherine FFP2. Inoltre, all'interno della sede concorsuale ogni candidato dovrà avere a disposizione 4,5 metri quadri e tra ognuno dovrà esserci una distanza di 2,25 metri. Si tratta di misure però che lasciano il tempo che trovano, dal momento che nel concreto le prove si svolgeranno quasi certamente fra diversi mesi, forse in autunno, quando cioè le condizioni epidemiologiche potrebbero essere molto diverse da quelle attuali. Ma poi di quali concorsi stiamo parlando? In ballo c'è innanzitutto l'ordinario per la secondaria di primo e secondo grado, già bandito per un totale di 32 mila posti e per il quale sono state presentate a suo tempo 430 mila domande. Poi l'ordinario a 13 mila posti per infanzia e primaria, anche questo già bandito, con 76 mila domande presentate. Da bandire poi ce ne sarebbero 5, tra i quali quello a 6 mila posti di sostegno e un altro per alcune migliaia di posti per l'insegnamento della religione cattolica. Va detto che ha destato curiosità ma anche sconcerto il fatto che l'annuncio dello sblocco sia arrivato dal ministro Brunetta e non dal ministro Bianchi, anche perché finora i concorsi della scuola sono sempre rimasti a totale ed esclusivo appannaggio del ministero dell'istruzione. Resta il fatto che il decreto legge approvato dal governo prevede che a partire dal prossimo 3 maggio sarà consentito lo svolgimento in presenza delle procedure selettive dei concorsi pubblici. Ma è bene precisarlo, questa è una data puramente teorica perché le procedure potranno prendere avvio solo quando lo deciderà il ministero dell'istruzione. C'è infine una questione di non poco conto sul tema del reclutamento dei docenti. Nella maggioranza di governo sono in tanti a spingere in un'altra direzione. Non da oggi per esempio la Lega e una parte del PD vorrebbero varare un piano straordinario di assunzioni da farsi con un concorso per soli titoli e servizio e se andasse in porto questa ipotesi bisognerebbe anche rivedere il piano dei concorsi. Questo perché la procedura delle assunzioni senza prove avrebbe effetti immediati per sanare almeno una parte delle oltre 100.000 cattedre vacanti in organico di diritto. Siamo però a inizio aprile e il tempo è davvero poco. Se si vuole evitare che a settembre si riproponga il solito caos bisogna fare in fretta, anzi di più. Oggi è già tardi. È il tema del momento, è il tema di questi giorni, di queste ore, e quindi ve ne daremo ancora notizia. Quindi continuate a seguirci su questo canale ma anche sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it. Ovviamente continuate anche a scriverci, a mandarci le vostre lettere, i vostri documenti, le vostre osservazioni. Intanto cogliamo anche l'occasione per augurarvi breve periodo di serena festività. Noi lunedì ovviamente non ci saremo perché è il giorno di Pasquetta. Ci ritroveremo il prossimo giovedì, quindi giovedì 8 aprile. Arrivederci a tutti e ancora buone festività. Grazie a tutti.